Il Pescara batte il Trapani per due reti a zero, il gol realizzato da Benali e dalla Padula che arriva a quota 30 a marcature in stagione. Sicuramente il Pescara è stato avvantaggiato dall'uomo in più, visto che Scozzarella è stato espulso al ventesimo del primo tempo dopo aver beccato un'ammunizione. Resosi conto che era diffidato e avrebbe saltato il prossimo turno, ha calciato fuori dal terreno di gioco il pallone e gli è scattato il secondo cartellino giallo. Arrabbiatissimo Cersei Cosmi che ha visto mandato in fumo tutto quello che aveva preparato per affrontare questo match. Con la vittoria del Pescara per due a zero il Trapani è costretto a vincere con due gol di scarto per passare direttamente in Serie A. Non sarà un'impresa facile ma Cersei Cosmi ci ha abituato anche a vedere delle cose incredibili. Dobbiamo fare i complimenti ancora alla Padula, un giocatore che forse con queste caratteristiche non sarebbe stato male in mezzo agli uomini che Antonio Conte sta portando ad Euro 2016 in Francia. Grazie per la visione!